Ci siamo trovati con, avevamo già previsto da alcuni giorni l'incontro online con tutti gli stakeholders della Milano Cortina, abbiamo affrontato tutti i temi legati alla realizzazione, ai problemi che ci sono, alle soluzioni che abbiamo dato, eccetera. È chiaro che è un'ipotesi che sicuramente la vicepresidente ha già affrontato il tema di Expo, quindi penso che qualcuno abbia fatto un abbinamento tra la sua precedente attività e che è stata fatta bene. Quindi la vedrebbe bene, insomma, questa carica? Penso che le sue capacità in merito a un evento internazionale sono state già dimostrate a nuovo nome. Beh, questa è una scelta che aspetta il Presidente del Consiglio, io credo che sia una cosa che appena superate le primi lavori che devono essere necessariamente svolti per Costituzione, credo che sarà una delle prime decisioni che prenderà, quindi penso che nello pazzo di qualche giorno arriva un nome.